Capitolo nono. Lì domani a mezzogiorno Amelia le capitò in casa, ma siccome Severino era a tavola con lei, chiacchierarono soltanto del più e del meno. Quando furono in strada Amelia le disse che era stata quel mattino da una pittrice che l'avrebbe fatta lavorare. Perché non veniva anche lei? Quella scema voleva fare un quadro di due donne abbracciate e così avrebbero posato insieme. Perché non si copia lei dallo specchio? rispose Ginia. Vuoi che si metta nuda a dipingere? disse Amelia ridendo. Ginia rispose che non poteva uscire dall'atelier a piacimento. Ma quella ci paga sai, disse Amelia. È un quadro che durerà molto. Se tu non vieni non prende neanche me. Non le basti tu da sola? Devono essere due donne che fanno la lotta, capisci? Ce ne vogliono due. È un quadro grande. Basta che ci mettiamo come se ballassimo. Io non voglio posare, disse Ginia. Di cosa hai paura? È una donna anche lei? Non voglio. Discussero fino al trame. Amelia cominciò a chiederle che cosa si credeva di aver sotto i vestiti da conservare come il Santissimo. Parlava rabbiosa senza guardarla. Ginia non rispondeva. Ma quando Amelia le disse che per barbetta lei Ginia avrebbe accettato di spogliarsi, le rese in faccia. Si lasciarono così male che si capiva che Amelia non gliela avrebbe perdonata. Ma Ginia che da principio alzò le spalle un bel momento ebbe paura all'idea che Amelia l'avrebbe presa in giro con Guido e Rodriguez e non era sicura che Guido fosse tanto ingenuo da non ridere anche lui. Per lui poserei se volesse, pensava. Ma sapeva benissimo che Amelia era meglio fatta di lei che un pittore doveva preferirla. Amelia era più donna. Sul tardi passò un momento allo studio per far prima d'Amelia. Era l'ora che Guido le aveva detto che ci andava sempre. Trovò l'uscio di legno. Le venne in mente che Guido fosse al caffè con quei due. Passò al caffè e guardò un momento dai vetri e non vide che Amelia, seduta a fumare, col pugno sotto il mento. Poveretta, pensò, tornando a casa. Dopo cena vide dalla strada lo studio illuminato e corse su contenta. Ma Guido non c'era. Le aprì Rodriguez e la fece entrare e le disse di scusarlo perché lui aveva fame e mangiava. Mangiava del salame su un pezzo di carta, in piedi contro il tavolo, nella luce malinconica di quella prima volta. Mangiava come un ragazzo mordendo nel pane. Se non fosse stata la pelle scura della faccia e gli occhi falsi, Gina avrebbe magari scherzato. Lui le disse se ne voleva, ma Gina gli chiese soltanto di Guido. Quando non viene è consegnato, rispose Rodriguez. Gli tocca restare in caserma. Allora me ne vado, pensava Gina, ma non osava dirlo perché Rodriguez la fissava con quegli occhi e così avrebbe capito che era venuta soltanto per Guido. Guardò indecisa la stanza con quella luce che sembrava proprio una miseria e i cartocci e le cicche buttati per terra e chiese a Rodriguez se si aspettava qualcuno. Sì, disse Rodriguez, smettendo di masticare. Neanche allora Gina fu capace di andarsene. Gli chiese se aveva veduto Amelia. Voi altre non fate che ricorrerevi dietro, disse Rodriguez guardandola. Perché se siete donne tutte e due? Perché? Disse Gina. Rodriguez ghignava perché? Ma tocca a voi altre saperlo, per intuizione. Non si fa così tra donne? Allora Gina si dibatté un momento e disse. Amelia mi ha cercata? C'è di meglio, disse Rodriguez. Ti vuole? Si aperse la tenda là in fondo e uscì Amelia. Venne avanti impetuosa e Rodriguez strappando un boccone girò intorno alla tavola come giocassero a prendersi. Amelia non aveva il cappello e da rabbiosa che pareva si fermò in mezzo alla stanza ridendo. Ma rideva male, disse. Non sapevamo che eri tu. Ah, cenavate, disse Gina asciutta. Una cenetta intima, disse Rodriguez, ma in tre sarà più intima. Cercavi Guido, disse Amelia. Passavo un momento, ma Rosa mi aspetta, è già tardi. Amelia le gridò. Fermati, scema. Ma Gina disse. Non sono una scema e scappò giù dalla scala. Credeva di essere sola quando svoltò all'angolo, ma si sentì correre dietro a passetti precipitati. Era Amelia, senza cappello. Perché vai via? Non avrei creduto a Rodriguez. Gina senza fermarsi le disse. Lasciami stare. Passò diversi giorni con un batticuore come se scappasse ancora. Quando pensava a quei due, là nello studio, stringeva i pugni. A Guido non osava pensare e non sapeva come fare per rivederlo. Era convinta di aver perduto anche lui. Sono una scema, pensò Gina finalmente. Perché scappo sempre. Non ho ancora imparato a star sola. Mi vengano a cercare se mi vogliono. Da quel giorno stette tranquilla e pensava a Guido senza commuoversi e cominciò a fare attenzione a Severino che quando gli dicevano qualcosa, prima di rispondere guardava in terra e non dava mai ragione a chi aveva parlato. Piuttosto stava zitto. Non era poi stupido. Era quanto fosse un uomo. Invece lei finora aveva fatto come Rosa. Si capisce che la gente la trattasse come trattava Rosa. Non andò più a cercare nessuno al cinema o alla sala. Si accontentò di camminare tutta sola per le strade e di andare qualche volta fino al centro. Era novembre e certe sere prendeva il tram. Scendeva i porti, ci girava un momento e poi rincasava. Sperava sempre di incontrare Guido e tutti i soldati li guardava in faccia di sfuggita. Tanto per sapere, Sara rischiò una volta col batticuore davanti al caffè di Amelia e intravide molta gente, ma lei no. Le giornate passavano ad agio, ma il freddo aiutava a starsene al chiuso e Ginny in quella malinconia pensava che un'estate come l'ultima non l'avrebbe passata mai più. Era un'altra donna, pensava. È impossibile che fosse così matta. Mi è andata bene per miracolo. Che un altro anno sarebbe tornata l'estate le pareva incredibile e si vedeva già per i viali alla sera sole con gli occhi rossi, da casa al lavoro, dal lavoro a casa, nell'aria tiepida, come una ragazza di 30 anni. Il peggio era che il gusto di una volta, a starsene quella mezz'ora sul letto al buio, non lo provava più. Anche lavorando in cucina pensava allo studio e le avanzava sempre tempo per guardare in aria. S'accorse dopo di aver trascorsi in questo modo non più di 15 giorni. Sperava sempre uscendo dall'atelier di trovare qualche novità sotto il portone e che non ci fosse mai nessuno ad aspettarla, le dava il senso di aver perduto la giornata, di essere già domani, a domani l'altro e di aspettare qualcosa che non veniva mai. Non ho ancora 17 anni, pensava. Ho tanto tempo. Ma non capiva perché Amelia, che le era a corsa dietro senza cappello, non si facesse più vedere. Forse aveva solo avuto paura che lei parlasse. Un pomeriggio la signora Bice venne a dirle che la chiamavano al telefono. È una donna con la voce da uomo, le disse. Era Amelia. Senti, Ginia, racconta che Severino sta male e vieni da noi. C'è anche Guido, ceniamo insieme. E Severino corri a casa a buttagli la pasta e poi vieni. Ti aspettiamo. Ginia ubbidì e corsa a casa e disse a Severino che cenava con Amelia. Si aggiustò i capelli e uscì che pioveva. Amelia ha proprio una voce da tisica, pensava, poveretta. Era decisa, se non c'era Guido, di scapparsene. Trovò Amelia e Rodriguez che accendevano nell'ombra una stufa petrolio. E Guido chiese. Amelia si alzò passandosi la mano, riversa sulla fronte e indicò la tenda. Dalla tenda uscì la testa di Guido che le gridò ciao e allora Ginia gli sorrise. La tavola era un disordine di piatti di carte e di provviste. In quel momento sul soffitto si accese il riflesso circolare della stufa. Accendete la luce, gridò Guido. No, è bello, restiamo così, disse Amelia. Caldo non faceva e bisognava tenere il sopravvito. Ginia andò al lavandino scostando la tenda e di là chiese forte. Che festa è questa sera? Se vuoi la tua, le disse Guido piano asciugandosi le mani. Perché non venivi più? Sono venuta e lei non c'era, bisbigliò Ginia. Fammi del tu, disse Guido, questa sera ci diamo tutti del tu. È stato consegnato? Disse Ginia. Sei stato consegnato? Disse Guido carezzandole con le dita e i capelli. In quel momento alle spalle le accesero la luce. Ginia lasciò cadere la tenda e fissò il quadro del melone. Per mangiare aspettarono che l'ambiente si scaldasse. A girare così col sopravvito le mani in tasca pareva di essere al caffè. Rodriguez si versò da bere e ne riempì altri tre bicchieri. Non cominciare, disse Amelia. Rodriguez disse che cominciare bisognava. Poi portarono il tavolo vicino al sofà piano per non versare i bicchieri e Ginia fece in tempo a sedersi sul sofà con Amelia. C'era del salame, della frutta, dei dolci e due fiaschi. Ginia pensava se erano quelle le feste che Amelia faceva una volta con Guido e gli lo chiese dopo aver bevuto un bicchiere e quelli ridendo cominciarono a raccontarsi tutte le commedie che avevano fatto là dentro. Ginia ascoltava invidiose e le pareva di essere nata troppo tardi e si dava della scema. Capiva che i pittori vanno trattati ridendo perché fanno una vita diversa dagli altri. Tant'è vero che Rodriguez che non dipingeva stava a Keto e masticava o se la diceva la sua prendeva soltanto in giro. Guardava lei sotto sotto malizioso e tutta la rabbia perché Guido si era divertito con Amelia. Ginia la covava contro di lui. Non sta bene, disse Pianucolosa, raccontarmi queste cose a me che non c'ero. Ma stasera ci sei, disse Amelia. Diverditi. Allora Ginia venne voglia, ma una voglia terribile di essere sola con Guido. Eppure capiva di avere quel coraggio soltanto perché Amelia era seduta lì vicino. Diversamente sarebbe scappata. Non ho ancora imparato a star tranquilla, ripeteva. Non devo commuovermi. Poi gli altri accesero le sigarette e gliene diedero una. Ginia non la voleva ma Guido venne a sedersi accanto a lei e l'accese e le disse di non respirare. Gli altri due facevano la lotta sull'angolo del sofà. Allora Ginia saltò in piedi scostando le mani di Guido, posò la sigaretta attraverso lo studio senza parlare, alzò la tenda e si fermò in piedi nel buio. Dietro di lei parlavano come un ronzio lontano. Guido bisbigliò senza voltarsi e si buttò su quel letto a faccia in giù.